Buondì, oggi farò un video un po' mercadinico, ossia partirò da un argomento che sembra non essere collegato con quello che voglio dire, farò diversi esempi e poi arriverò in modo indiretto a enunciare qualche frase. Iniziamo con la storiella. Faccio parte di un gruppo di Whatsapp in cui spesso non intervengo, ma le volte che intervengo è perché qualcuno di solito fa un'affermazione un po' più lunga della gamba, di solito citando qualcosa che non ha mai detto. Ad esempio, pratico, ieri mi è arrivato un messaggio di, diciamo, una citazione di una persona famosa e mi ha detto guarda, no, semplicemente io senza neanche leggerlo prima perché ormai sono abituato, l'ho googlata e statisticamente le principali fonti mi hanno detto che era falsa. E senza citare le fonti, se tutti i siti ufficiali ti dicono una certa cosa, non dico che sia vera, dico che è molto molto improbabile che tutti si siano sbagliati. Perché, al di là di quello che fanno i piccoli giornali, i piccoli siti che dicono, ah, hanno fatto un articolo su, copiamolo identico ma scriviamolo a modo nostro, le fonti grandi hanno i ricercatori stipendiati, hanno i giornalisti sul campo e quindi non è che copiano. Allora, arrivo tutti alla stessa conclusione. La invio e, tra l'altro, non viene neanche citata bene perché mi dicono, ma che cazzo sei tu per dirlo? Io, ma, appunto, io non sono nessuno, ci sto citando la BBC, ci sto citando, non Wikipedia o Facebook. E, ok, questo qua, ti appartiene a una piccola riflessione. Cosa deve girare in internet? Perché internet è un posto fantastico. Evitare internet sarebbe una cosa da folli e sarebbe un passo indietro nel progresso. Allora, cosa far girare? Perché posso girare sia delle minchiate, sia delle bufale, sia di articoli scientifici, sia la peer review online, sia qualsiasi cosa. E' complicato. Diciamo che Google ogni tanto aiuta, ogni tanto non aiuta. Perché, per esempio, sui video di YouTube spesso alcuni canali perdono la monetizzazione. Quindi non guadagnano su video che violano le norme di YouTube. Non insultare certe regioni, non parlare di determinati argomenti che sono discutibili. Perché se tu poi dicevi pandemia, in periodo di pandemia ti monetizzavano il video, ma vabbè, se parli di Twitch anche. Oppure non fare false informazioni, non fare disinformazione. Quello è una delle linee guida. Qualche tempo fa hanno chiuso il canale di Beyblu, BioBlu. Si pronuncia BioBlu. Che è un canale famoso perché fa soltanto disinformazione. E ci gioca quando le persone... C'è anche Rick Tufer ha fatto un video su questo. E' interessante se YouTube aveva fatto una live. Andate a seguire. Interessante. E ha un bene che l'abbia chiuso. Per esempio, Rick Tufer dice... Ma ragazzi, prima semplicemente gli toglieva i video e lui ci marciava. Perché no, lo Stato e le multinazionali vogliono nascondere il vero potere, la terra e piatta e cazzi e mazzi. Ma adesso, che non c'è più il canale di YouTube, lui ha lanciato un crowdfunding per raggiungere la quota a 200.000 euro per andare sulla televisione. E 200.000 euro li fa. Cioè, li ha già praticamente fatti. E il problema è che sulla televisione non ci sono i controlli, non ci sono le censure, non ci sono persone che ti dicono nei commenti o chi si rispondono. No. C'è lui che spara minchiate e nessuno che lo ferma. Quindi è stato un bene? Non lo so, non lo so, non lo so. Poi, sempre ieri, mi è arrivata invece un'altra notifica. Una storia di Instagram. In cui era condiviso un post che raccontava delle violenze subite da diverse ragazze di età tra i 12-13 anni fino a 21. a Genova, nella mia città, quindi, ragazzi, mora estate sull'autobus con il racconto. Con il racconto, una ragazza con cui mi sono scritto, ha fatto questa storia qua, si è messa insieme a raccontare le varie storie, e ragazzi, oltre che essere capriccianti, fanno venire da vomitare, ma fanno riflettere. Perché avere qualcuno che te lo butta in mano sull'autobus non è bello. Avere qualcuno che ti viene addosso sull'autobus non è bello. Ma non è che non è bello come una giornata oggiosa, non è bella. È un non bello da trauma, è un non bello da farti perdere la fiducia nella società. Da farti dire se è potuto capitare questo, a che livello siamo. E la parte ancora più non bella sono le risposte dei poliziotti quando vai a spargere denuncia. Sono le persone di fianco che non fanno niente, che ti guardano, gente che ti dice «Va bene, anche a me è capitato, ma sei tranquillo, sono cose che passano». È una cosa un po' in stile mafia, vedere male e dire «Tranquilla». Non lo lascio a fare. Cosa ho fatto io? Oltre che fare un video il giorno dopo, ora. Ho inviato quel post a tutte le principali pagine su Facebook e su YouTube che io seguo. Pagine scientifiche, sapete le cose che seguo. Perché? Per due motivi. Uno, volevo che fosse diffuso. Due, volevo che ne parlassimo e ne parlassero. Tre, hanno un pubblico molto più vasto dei miei 32 iscritti. Perché ho fatto un calcolo, arriviamo intorno al milione, a milioni di utenti. Che sarebbe bello, perché un sessantesimo della popolazione che ne parla, vuol dire che in tanti i giovani, che lo sanno perché lo vivono, oppure quei milioni sono vecchi, ma sui social è più improbabile, ne parlano, ne discutono, si incazzano. Cerco di avere una legge dei controllori sull'autobus, cerco di parlare con le persone, così. Ok, ho scritto sulle pagine scientifiche, ma è stato giusto scrivere sulle pagine scientifiche? Beh, ufficialmente parlo di cose scientifiche, ma poi mi è venuta in mente la risposta a una domanda che continuano a farmi le persone che dicono, ma che cazzo serve là e cerca, ma perché spendere miliardi in acciatoi di particelle al CERN, al Gran Sasso, dove volete, in America? Ma che minchia ce ne frega di andare, insomma, non ce ne frega niente. Cioè, io ci passerei la vita a farlo. Ma quando parliamo di queste cose qua, vanno in secondo piano. Quando mi dicono, eh ma potremmo usare quei soldi lì per dare, dare da mangiare per combattere la fame in Africa. Eh sì, 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 potresti farlo, va bene. Però non sai che magari sviluppando le tecnologie della NASA, aiuti il mondo, cioè, il World Wide Web è nato al CERN. Immaginate come sarebbe il mondo se adesso non ci fosse internet? Forse è un posto migliore, non lo so. Vi immaginate, senza le tecnologie della NASA, come sarebbero messi molti paesi, la NASA ogni anno pubblica un manuale grosso, così, di cose che hanno creato, e di tecnologie che vengono usate ogni momento. Per farvi dire, avete un telefono in mano, avete un computer con cui guardate questo video, è grazie alla meccanica quantistica, che ha reso possibile la miniatura delle componenti tecnologiche, passare dalle valvole termoioniche ai transistor, per esempio. Mercadini ci ha fatto un video ieri, andatevelo a vedere, andatevelo a seguire, va bene. Quindi, la domanda è, che cazzo servono gli acceleratori di particelle usati come simbolo? Ma niente. Non mi interessa fare ricerca, fare fisica, fare filosofia, perché queste cose qua elevano la condizione di uomo. Fanno sì che una persona, che passi le giornate a fare cose tranquillissime, andare al mare, coltivare, leggere, mangiare, si elevi moralmente, psichicamente, ideologicamente, che comincia a pensare a qualcosa di più grande, di più assoluto, di più grande di lei. Ma che senso ha fare queste cose qua quando le persone non sono persone, quando si comportano come delle bestie, quando si comportano come dei di stupratori, dei assassini? Non c'è. Non c'è. Non ha senso che io vada a studiare cromodinamica quantistica quando magari, nel posto di fianco a me, una ragazza è importunata da uno che gli mette il pisale in faccia. È un esempio. Ci sono tante cose. Sono tutti simboli. Il post è un simbolo. Gli acciatori e particelle sono un simbolo. Il caso di BioBlue è un simbolo. Usateli per il rettere. Quindi, che senso ha un cazzo? Perché dobbiamo prima raggiungere la condizione di uomini, tutti, di persone, senzienti, e poi elevarci. Detto questo, perché le ho inviato alle pagine scientifiche? Beh, perché sono quelle che seguo. Sono quelle con cui magari so che mi rispondono, sono quelle che io conosco. ho inviato anche altre pagine. E le risposte come sono state? Eh, dipende. Quelli che mi hanno risposto la sera stessa sono state due. Grazie. Grazie che mi hai detto. Ci tengo un sacco a queste cose qua. Che schifo. Commenti vari, discussioni un po'. Però è grazie che mi hai detto. Condivido subito. Senza che neanche io chiedessi. Reazioni di... Lo guardo dopo. Uno mi ha risposto una faccina che ride. Perché il post si inditola è legale masturbarsi sugli autobus a Genova? Che è una domanda provocatoria. Non deve far ridere. Ma le persone che non leggono niente sono il titolo. E... È stato abbastanza brutto. È stata abbastanza un'ascesa nei confronti di certe pagine che io aspettavo... Mi aspettavo una reazione matura, seria. Allo stesso modo in cui fanno video in cui parlo dell'effetto fotoelettrico con una certa serietà in cui spiccano magari biodinamica. vorrei che avessero una certa serietà nei confronti di domande sociali e problematiche sociali. Quindi una grande scesa. Gente che non ha risposto e parliamone. Non ha risposto perché hanno 350.000 follower. Immagino che i messaggi siano tanti. Va benissimo. Non non possiamo sapere se le pagine grosse non mi hanno risposto per questo o non mi hanno risposto per il secondo motivo. Il secondo motivo è che la facciata vale di più. È brutto da dire ma se io ho un pubblico vasto se i miei video fanno 15 milioni di views parlare di argomenti sociali quando di solito parlo sempre con questo tono scherzoso allegro di astrofotografia di mi viene in mente cromodinamica quantistica però c'è un po' che pagine che ne parlano e non sono così grosse di matrici di spazi vettoriali associate a matrici simmetriche diagonali cioè queste cose qua quando è un canale molto fissato in una cosa molto stretta te lo puoi permettere di parlare di altro cioè faccio stanto un nome di una persona che ha un canale grosso perché sono 75 mila iscritti su youtube e un fottio tipo 16 mila su instagram costanza pollastri costanza pollastri è una tra le prime che mi ha risposto che ha condiviso il post senza che io le chiedessi perché si si se lo può permettere studia fisica ha un canale inglese in cui fa divulgazione fa live con altre persone parla di robotica di informatica e beh questi sono i canali che non mi sono scesi sono canali che sanno il concetto la fisica la filosofia elevano lo spirito dell'uomo ma prima dobbiamo raggiungere il livello di uomo dobbiamo lottare per le battaglie per cui non dovremmo lottare perché lottare per lgbt lottare per la violenza per il femminismo lottare per per l'ambiente sono cose per cui non dovremmo lottare lottare dovrebbero essere concetti insiti nella natura umana e invece siamo ancora qui a dare voce a minchiate prese da facebook a ignorare persone come noi che soffrono e a dire sì che bello tanto mi rifugio mi rifugio nel mio mondo fatto da fisica fatto da matematica da logica in cui le cose funzionano in cui se il mondo va puttane ma vabbè intanto so diagonalizzare uno spazio vittoriale cioè porca troia aiutiamo le bestie a diventare esseri umani dico bestie è un termine fortissimo sì perché non posso dire le cose che ho pensato leggendo i commenti leggendo altri post perché sono tanti 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 le cose per cui lottare e per cui vale la pena lottare quindi domanda è ma che cazzo me ne frega a me sono un uomo avete mai sentito di un uomo bianco preso per il culo al di là e sono anche etero al di là di queste cose qua è molto raro è un caso privilegiato ne capisco cosa mi interessa? beh mi interessa perché può succedere ai miei amici non eteri non bianchi non maschi può succedere alla mia fianzata ai miei parenti può succedere a persone che conosco a conoscenti può succedere a persone che non conosco mi interessa mi interessa perché se uno soffre lo stato che per definizione è un organismo che dovrebbe smettere o almeno diminuire la sofferenza non fa un cazzo e questo è un problema i problemi sono una cosa collettiva e poi un occhio al futuro se se leggete il post quando un uomo è venuto addosso a una ragazza a una bambina di 13 anni e nessuno ha fatto niente l'unica reazione è stata una vecchia che le ha dato un fazzoletto dicendo tranquillo sono cose che capitano se sono cose che capitano e tu hai 90 anni significa che tu le hai vissute i tuoi amici le hanno vissute all'età di 13 anni 15 anni 18 anni è passato un fotteo di tempo il che vuol dire che se non facciamo niente la cosa può solo che peggiorare e arrivare al momento in cui io avrò 80 anni e sarà mia figlia mia nipote mia pro nipote avere questi problemi e allora avrete un nonno parecchio incazzato grazie